Waddu Allora Siamo appena tornati da Udine e mi hanno appena dato Una notizia Che ha dell'incredibile Come sapete ieri abbiamo vinto 0-1 La Juve ha vinto 3-0 La classifica se non sbaglio Napoli a 38 Juve 34 E Inter 36 Comunque questa non ha importanza perchè ragazzi Venerdì molto probabilmente Non giocherà perchè si è fatto male Andiamo allora vediamo in diretta Forse è uno scherzo Andiamo un po' Ok allora sono andato su Gianluca Di Marzio Allora Ho letto io vi vedo ciecamente Di Gianluca Di Marzio I bianconeri giocheranno senza il bp Dallo sconto diretto con la squadra di Sarri Juventus operazione necessaria per Iguain Salta la sfida con Napoli Ragazzi Goto finalmente Una gioia Mamma mia Scusate per l'euforia Però è incredibile Non ci credo Pensavo fosse uno scherzo Invece Alla fine non ci sarà E ti verrà il grande assente Di un duelo ad alta quota Gonzalo Iguain Salterà la sfida con il Napoli In programma Verdi sabato A 20.45 Nostro di San Paolo L'Argentino si è infortunato Alla mani di allenamento Un problema che aveva impedito Di essere presente Anche ieri sera col Crotone Ah ecco perché Gli rinaggati pure Che hanno vinto pure 3 a 0 Gli esami a questo Sottoposto la mattina D'avvivenzato la necessità Di operazione chirurgica Che quindi non gli permetterà Nemmeno di giocare Napoli Juventus Quindi Un problema in meno Venerdì Ragazzi Sto contento di dir poco Però ragazzi Questa è una grande notizia Questa è un grande segnale Perché Guain dopo Dopo essere arrivato L'anno scorso Al San Paolo Per la prima volta D'avversario Con la mai della Juventus L'anno dopo Si è infortunato E proprio questa partita Non giocherà Mi ricordo tipo Quagliarella Fece una cosa del genere Si infortunò Però seriamente Moco non so Mi hanno detto Che tipo è qualcosa Alla mano E comunque Si deve operare Quindi Guain Salterà Napoli-Juventus Ragazzi Allora Voglio fare un discorso Per quanto riguarda la partita Allora Questa partita È la partita Delle partite Vi dico che ci saranno Molti video In questo periodo Prima di venerdì Quindi mi raccomando Guardatevi tutti quanti È uscito ieri Anche la reaction Contro l'Udinese Che siamo stati ad Udine Ragazzi Comunque Che dire Della partita di venerdì Siamo a più 4 Dalla Juventus Se Veramente Dovessimo vincere Stiamo realizzando Un qualcosa di incredibile Se posso dire La mia Ho un po' di paura Per questa partita Comunque Non è da sottovalorare La Juventus Che La squadra Da 7 anni 7-6 anni La squadra più forte Ed Italia Questo non devo dirlo io Lo dico nei fatti Però ragazzi Godo Godo Adesso dobbiamo dare parola Al campo Questa partita È Forse la partita Più importante Del girone Di andata Per quanto riguarda Il girone di andata Di Serie A Speriamo bene Ragazzi Speriamo di allungare Anche sull'Inter Ma soprattutto Sulla Juventus Perché ragazzi Secondo me Secondo il mio Modesto parere Ci dobbiamo mettere Sia dell'Inter Sì Che comunque Non ha nessuna competizione Né Champions League Né Europa League Né niente Sulla Coppa Italia Però la Juventus Ragazzi Fa Fa sempre paura La vecchia signora Giarrice Fa sempre paura Oddio Ma chi è che non fa paura La Juventus Però Però Popo venna rì Venna rì Oddio Venna rì Mi raccomando ragazzi E Lasciate un bel mi piace Un bel commento Iscrivete al canale Mi raccomando Fatemi sapere Cosa ti raccomando Cosa ne pensate Della partita di venerdì Lasciate un bel mi piace Fatemi sapere Che altri video vorreste Eh A parte la reaction Di Napoli Juventus Oddio Allora Mamma mia Mamma mia Mamma mia Non ci sto Che ve lo giuro Oddio Sembrava uno scherzo Sembrava Sembrava uno scherzo E invece Iguain Non giocherà la partita Forse più importante Dell'anno per noi Quindi Lasciate un bel mi piace Un bel commento Iscrivete al canale Adesso calma E ce la mamma Andiamo Voglio sapere niente Concentrazione massima E sempre E comunque Forza Napoli Un bel mi piace Un bel mi piace Un bel mi piace Un bel mi piace